La mostra Liberty Torino Capitale, a cura di Palazzo Madama e la Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino con la collaborazione di Mondo Mostre, racconta, attraverso un centinaio di opere, il fondamentale ruolo di Torino per l'affermarsi del Liberty. Si tratta di un'operazione focale per l'ingresso di Torino nel RAN, il Resort Nouveau Network di Bruxelles, e la sua candidatura a Città Patrimonio Mondiale Unesco per il Liberty. La mostra è articolata in cinque sezioni, l'Eterno Femminino, la Casa Moderna, la Gran Via, Nuovi linguaggi per una nuova società e dalla Sfinge a Città del Messico. Un emozionante percorso interamente dedicato a Leonardo Bistolfi, seguendo la genesi di alcuni suoi grandi capolavori.